eccoci qua come da titolo si sarà capito ce ne mancano cioè me ne mancano 11 11 perché la volta scorsa doveva essere 13 in verità abbiamo scoperto che erano 14 di cui una me l'ho persa per strada e quindi ora me ne mancano 11 11 da trovare qui ci sono l'altra volta mi ho trovato questa questa è la 140 mi ricordo la 100 bombe ricordo qual era che mi ero scordato disegnare e ho lasciato queste qua perché come vedete la mia capacità di scrittura fa pena con il penarello nero e quindi detto rievitiamo di spiegare l'altra carta tanto sono ben delineate l'alle anzi facciamo così e calla aspettate così sembra più un 6 prima se capivo che non è che mo se capisca moltissimo bene 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 andiamo a spacchettare vedere se troviamo le mancanti 11 allora abbiamo il signor paladino che ci illumina la giornata la chimera chissà se questi tre litigano le due rare poi arne di combattimento dove si massacravano e le necropoli dove poi lo stregone dragosauro bene ok poi l'incubo quello che mi sognerò stanotte e poi il tempio perduto via abbiamo cerbiato bambi al cereale e questo cos'è corno della battaglia la 66 ma ce l'abbiamo già magari non mi sarà uscita molte volte quindi pensavo che mancasse cinghiale gigante le due rare e poi l'altra necropoli ma si torniamoci per un bis nella necropoli il mio mio squadro che pazienza allora poi abbiamo drago di ghiaccio povero torcicollo sto draghetto meccanico la chimera la durare e la scimmia gigante che di gigante c'ha solo la banana che tiene in mano con quella banana si sfama i popoli dell'est poi al tuo il fu pegaso radunare del bosco no e cerbero chissà ovviamente non troviamo nessuna questo video non uscirà non avrebbe senso farlo uscire no leone mutato manco un'altra chimera si è mangiato le chimera di cose un branco di chimera è sparso nei miei pacchetti e bastone del guaritore poi un altro paladino un altro pipistrello gigante 395 manco se sogniamo le due rare e colonia costiera oh mamma mia sempre le stesse rottura allora scorsione gigante pipistrello di prima il gin che fa te che sei laboratorio di riparazioni 179 ma ce l'ho già quindi che me frega togliamo queste andiamo avanti un foglietto illustrativo me ne va a frega addemeno un altro drago un altro meccanico ma che è oh rippocampo un idra un foglietto yeah grifone 221 no ce l'abbiamo fenice ce l'abbiamo sto sgorbio ce l'abbiamo travestimento del bosco uh uh non so piano piano dragobot oh piano piano la mia frustrazione sta andando alle stelle incubo 302 no ce l'ho mannaggia scudo arcano e c'è il stimento del bosco oh santo cielo esploratore vegas unicorno figurare escudo arcano yuppie negromante ippocampo ippocampo sembra un coccodrillo il lancino dell'altra volta tempio caduto abbiamo fatto un enorme necro una città enorme di tempi caduti oh poi stregone serpeggiante un altro incubo oh che bello e nidosi il veleno dei ragni quello che è un altro libretto con le istruzioni che non salvano nessuno guerriero esploratrice uve allora poi ingrandimento manco lo faccio vedere è volta dimenticata sì dai questa è qui via wow bello se non ragiono nessuno questo spacchettamento non è mai esistito 146 meccanico golem sto schifo è il bastonetto della magnificenza dei miei cogliomberi dragosauro grifone saggetto tessa estomona qual è il cavolo mettiamovi giù buttiamovi qua facciamovi su ok mettiamo a posto le rare secondo un ordine normale per essere girate come mi stanno girando gli zebedei in questo momento non avete idea l'occhio titanio eccelo necromante rider con il torre rider oh wow incredibile oh e questo video avrà la luce questo video avrà la sua luce 64 e diventerò 10 mamma mia cazzarola godiamoci questa spada la spada selvaggia i neobarbari utilizzano le armi che trovano durante i loro viaggi smettiamola col Parkinson ancora e che spesso non sono in buono stato quando torvano quando torvano a darmi di buona qualità le costruiscono gelosamente e te credo ok ne rimangono 10 da trovare andiamo avanti la manzone rider la strega rider una manticora quelli che so di aver già è inutile che sto lì a pensare e boccavalere quello che è meccanico rider warrior rider ispirazione cyber elf rider a vedere spettale rider paladino rider 223 l'acciaio dell'altra volta però anche due acciaio e una titanio questo spacchettamento mantello elfrigo ce l'abbiamo già però quindi la posso scambiare esploratore rider 260 una terza acciaio corona celestiale ce l'abbiamo già però poi alto elfo rider basilisco necromant rider 296 no speravo un attimino invece no la seconda titanio bello sto video ne mancano 11 3 acciaio 2 titanio praticamente poi parcero rider e 169 no vabbè mi interessa esploratore rider e 62 61 ho trovato nello stesso pacchetto incredibile numero 90 l'arpia la 117 vabbè ok oh mamma mia 4 acciaio e 2 titanio cioè incredibile speriamo che un giorno le titanio e l'acciaio valgano qualcosa poi ultime 3 carte sto schifo qua salto schifo qua e salto schifo qua ok ok quindi questa è la protagonista di questo video vabbè questo è stato un video abbastanza demoralizzante per me e spero comunque a voi vi sia potuto piacere a me non cioè bella questa però che rottura di best day qualsiasi cosa siano io vi saluto condividete questo giro non so neanche se chiedete di condividere questo video forse mi vedete lasciate un like un commento la campanella la volete veramente attivare non penso proprio però fate voi dubito fortemente e basta vabbè basta ciao raga